Il mondo delle arti è già difficile di per sé, perché mio padre mi ha sempre detto impara l'arte e metti la da parte, lui è il pittore, quindi è difficile trovare il proprio modo di essere felici e vivere della propria arte. Ogni diversità, oggi lo vediamo, ha bisogno di un passo in più. È incredibile pensare che l'essere donna a volte viene considerato come una forma di diversità. I miei modelli sono sempre stati donne o anche uomini, quindi senza per forza pensare che la sessualità sia di per sé lo scoglio o la differenza. Per me non c'era differenza di sesso, era più che altro quello che loro raccontavano, come lo raccontavano e quanto un artista riesce a parlare di sé e questo è l'importante. Grazie